Buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV. Questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa del mattino che inizia presto alle 7.30, naturalmente è in diretta, poi con le repliche, fino alle 8.30, poi alle 9.10 e alle 13.30. Ben ritrovati, oggi è giovedì grasso, allora che giovedì ci attende? Lo vedremo tra poco dal punto di vista meteorologico, diamo uno sguardo invece adesso al calendario, all'almanacco per dirvi che oggi è San Rabano Mauro. È stato un abate, stiamo parlando di un abate che visse, intanto nacque nel 7.80, quindi è un abate che è stato un grande studioso, a lui viene attribuito addirittura il bellissimo Veni Creator. Il sole è sorto alle 7.21 e tramonterà alle 17.22. Oggi abbiamo un cielo inizialmente nuvoloso, per nuvole cumuliformi, sono i residui della notte, con schiarite però sempre più ampie già dal primo mattino. Poi avremo un cielo sereno nella seconda parte della giornata, invece i rovesci che ci sono stati nella notte saranno in esaurimento nel corso della mattinata, a iniziare dal settore nord, quindi dal pesarese. Le nevicate sui Sibillini e quant'altro, giù al sud saranno attorno ai 600 metri, le temperature in diminuzione. Poi per la giornata di domani, venerdì 5 febbraio, avremo un cielo sereno poco nuvoloso. Attenzione alle possibili gelate nei fondovalle di notte e al primo mattino. Questo per effetto chiaramente dell'abbassamento della temperatura, che ancora però non c'è stato, perché qua sono 9 gradi stamattina ancora. Probabilmente i venti ancora devono girare, però cielo poco nuvoloso invece per sabato 6 di febbraio, con temperature senza variazione di rilievo, mentre un lieve peggioramento del tempo nella giornata di domenica, con la possibilità di qualche debole fenomeno in esaurimento nella giornata di lunedì. Il 4 maggio, la sera del 4 maggio 2013, a Fano, in un pub del centro storico, ci fu un pestaggio. Un pestaggio del quale tutte le cronache locali parlarono per giorni, perché fu un pestaggio pesante. E oggi si è arrivati al processo, alla conclusione del processo e alle condanne. Sono state condannate 5 persone, 5 skinhead, per queste botte al pub. Si erano avventati contro un ragazzo di 34 anni, lo avevano ridotto quasi cieco, assolto il principale indiziato di pestaggio. La vittima non lo ha riconosciuto, un pestaggio che, come dicevo, è avvenuto nel centro di Fano, in un locale del centro, la sera del 4 maggio del 2013. Il giudice vuole ascoltare tre bambini che, nell'agosto del 2014, massacrarono tre polletti in un allevamento di Villa Fastigi. Solo che questi tre bambini hanno tra i 10 e i 12 anni e sono accusati di uccisione di animali con crudeltà. Il proprietario trovò tre volatili morti ed un altro accecato. Uno dei ragazzini ammise le sue colpe dopo l'uscita di un articolo sul giornale, sul resto del Carlino. E il Tribunale dei Minori li ha incriminati, anche se chiaramente non sono punibili, essendo tutti al di sotto dei 14 anni di età. Poi invece c'è anche, sotto la pagina di Pesaro del resto del Carlino, questa vicenda drammatica per chi naturalmente è coinvolto affettivamente. Luigi, dice la moglie, è ancora in carcere in Venezuela e spesso è anche legato. L'ho sentito, parla un amico preoccupato, dice l'ho sentito piangere e dopo questo ennesimo rinvio del procedimento, insomma, possibile che non si possa fare nulla. Perché è in carcere in Venezuela? Perché il commerciante pesarese è stato arrestato con 57 volatili rarissimi all'interno di una valigia. Si chiama Luigi Federici, 67 anni e si trova appunto in carcere a Caracas, in Venezuela, dal 10 settembre scorso con l'accusa di contrabbando di animali esotici. Ed è ancora in cella. Dimenticata al pronto soccorso, lo disse raccontata dal giornale di otto ore alla ricerca di un referto perduto. La denuncia è di Michela Buccellati Malerba. Dopo cinque ore, dice lei, dopo aver fatto un esame, sono venuti a chiedermi se dovevo fare le lastre. Per il piccolo Federico, invece, un canto d'amore e di rabbia di Luca Vagnini, cantautore fanese che ha inciso un brano che si ispira alla vicenda del bambino malato. Chi acquista questa canzone, la traccia, donerà fondi per le infusioni. L'obiettivo è di raccogliere 2.000 euro. Si parla anche, naturalmente, di carnevale. Ancora questa mattina, oggi dicevamo, è giovedì grasso, con la gluppa o tra i piccini, a ciascuno il suo vegliole. Oggi, in piazza 20 Settembre a Fano, ci sarà Margherita Principi, cantante che si esibita anche a X Factor, e poi il duo Idea di Zelig. Gli appuntamenti prima dell'ultima sfilata di domenica prossima. E sempre sul carnevale, Enrico Tosi, che è uno studioso di questa antica manifestazione fanese, racconta di come i confetti finivano in testa i filarini. E così le zittelle fanesi hanno inventato il getto, alle origini appunto di questa tradizione. Nel Settecento le donne nubili si ribellarono all'isolamento e quindi scesero, decisero di scendere in piazza. Lavoragine di Orciano. Nove mesi di inerzia e non basta. Se tutto va bene, se ne riparla a settembre. Nessuna certezza su tempi e costi dell'intervento. Dopo l'assemblea, un cittadino è ancora fuori casa. I commercianti invece lamentano incassi a picco. Chissà perché, ma immediatamente dopo quell'evento, in tanti pensarono a questo film quasi già visto, che riguarda i tempi lunghissimi e chissà ancora quanto ci vorrà per sistemare quella strada. Morì sul viadotto, stiamo parlando di un fatto che avvenne il 20 dicembre del 2015. A processo, adesso è finito un camionista di 70 anni ed è sotto processo per omicidio colposo. La vittima fu il figlio di Rita Cutolo in tribunale. L'udienza è il prossimo 18 marzo. Uscì di strada con il tir, questo camionista, davanti alla Galleria del Furlo e non segnalò il pericolo. Guardate, in questo articolo ci sono le immagini dell'auto che precipitò poi di sotto nel viadotto con il camion che è appunto il camionista, soprattutto che non segnalò il pericolo. Cambiamo giornale adesso, andiamo sul Corriere Adriatico. Si parla di bullismo sulla pagina di Pesero perché è importante che ci siano queste manifestazioni. Ieri al teatro sperimentale oltre 500 studenti delle scuole superiori hanno ascoltato gli esperti parlare del cyberbullismo, quello che avviene anche attraverso i messaggi, attraverso il computer, attraverso i social network, che attenzione, per noi adulti magari sembrano una stupidaggine, ma per chi invece ha un'età ancora così giovane, un messaggio, una parola di troppo, una parola storta, può essere e può fare male. La lingua, così come le parole, ma insomma fanno male, soprattutto questi ragazzi molto giovani, bullismo, è ancora un problema di omertà, tante segnalazioni anonime e rarissime denunce, almeno secondo appunto gli esperti della polizia che ieri hanno parlato ai ragazzi, i quali vanno aiutati a parlare. Oltre 500 studenti hanno partecipato a questa iniziativa, c'è stato uno spettacolo teatrale, e un hashtag su Twitter, una parola e un bacio, perché è coinvolta anche l'azienda nota dolciaria della Perugina, appunto, che produce i baci. Per il distretto del Mobile, sempre da Pesaro, 12 milioni di euro presentati in Confindustria, i due bandi della regione attivati con i fondi europei. Andiamo a vedere la pagina di Fano, la politica tutta unita per rilanciare il Carnevale, è approvata infatti una mozione, la mozione a cui il Consiglio lavora da mesi, accolte anche le richieste dei maestri carristi. Mentre Alberto Berardi insiste, dice no all'ingresso a pagamento perché c'è già la lotteria. Ma attenzione, Viareggio, copiare non è reato, quindi Viareggio dice, o meglio, ricava dai biglietti 2 milioni e mezzo di euro. Chiaro che il biglietto a Viareggio costa tanto, costa tra i 15 e i 18 euro. Anche lo spettacolo è chiaramente diverso, però accanto alla sfilata dei carri ci sono anche altre feste popolari gratuite, quindi un po' per accontentare tutti quanti. Va bene, continua comunque il dibattito, intanto godiamoci il Carnevale gratuito, visto anche i tempi che corrono, insomma adesso forse è meglio che sia gratuito. Falso incidente, attenzione, 8 anziani truffati, allarme del commissariato di Fano, in città opera una banda che spilla denaro ai pensionati. Allora in questi giorni, lo ripetiamo per l'ennesima volta, in questi giorni, cari amici anziani, o cari comunque telespettatori in generale, in questi giorni stanno telefonando nelle case, anche nelle vostre case, dicendo, esordendo così, suo figlio ha avuto un incidente, ok? Quindi non preoccupatevi, va bene? È una truffa, va bene? Quindi o passate il telefono a qualcuno che è più giovane di voi, quindi un figlio o quant'altro, oppure semplicemente chiudete la cornetta del telefono. Se invece avete voglia di fare gli 007, magari sapete che è una truffa, voi fate finta di accettare. Mettetevi d'accordo, nel frattempo chiamate i carabinieri, la polizia, chi volete voi, delle forze dell'ordine, e organizzate una bella trappolina, così quando arrivano a prendere i soldi si presentano a casa, tac, scattano le manette. Ok? Più di così ragazzi, non sappiamo come dirvelo. Solidarietà ai carabinieri, aggrediti in campo, gioventù nazionale e fratelli d'Italia, segnalati rischi delle forze dell'ordine e la carenza di norme rigorose. Stiamo parlando di alcuni militari che sono rimasti coinvolti l'altra sera in un arresto che hanno dovuto effettuare, ma che poi per tutta risposta hanno invece ricevuto calce e quant'altro. Insomma, rimasti feriti per tentare di calmare due ragazzi sotto l'effetto di alcol e droga. Poi la pagina di Senigallia, invece, muore schiacciato dalla motozappa. È morto tra le lame di una motozappa un imprenditore agricolo in pensione di 79 anni, già titolare di un'impresa individuale di Sant'Angelo. La vittima Ilario Goretti, la moglie si è preoccupata quando non lo ha visto tornare a pranzo e poi la tragica scoperta. Ma a Scapezzano si piange la morte di Elisabetta Massi, colpita da un male, aveva 53 anni soltanto, ed era molto conosciuta a Senigallia, dove per anni ha gestito insieme al marito Gabriele una bancarella di scarpe in piazza Garibaldi. Adesso, per chiudere la rassegna, andiamo sul messaggero. In apertura, fusione, in arrivo agli Stati Generali, prevista a fine mese la Convention Nazionale del Lanci, Lanci è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Intanto l'iter va avanti. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, rilancia l'Unione Pesaro-Mombaroccio. Si voterà il 13 oppure il 20 di marzo. Fotografia grande per il giovedì grasso, con gli appuntamenti di piazza 20 settembre. E poi, sulle pagine interne dell'inserto pesarese del messaggero, il tour nei quartieri del sindaco Ricci. Ha fatto tappa a Villa Fastigi, dice a Pesaro, chiedono al sindaco di non essere isolati. È stata un'assemblea affollata per sindaco e assessori, che hanno presentato i futuri interventi in quel quartiere. E dai residenti parte e sale una richiesta, la bici politana. Poi, sull'altra pagina, invece del messaggero, questa vicenda che è avvenuta vicino al parcheggio del cavalcaferrovia. Siamo a Pesaro. Rubi l'auto proprio a me, questo è il titolo, un disoccupato picchia il ladro che è stato sorpreso all'interno della sua auto. Un'auto punto, in sosta, è stato arrestato per rapina, patteggia e torna in libertà. Luca Varani, questa sera in televisione. Oggi voglio dire tutta la verità. Chiaramente stanno tentando in tutti i modi di bloccare questo programma, aumentando le polemiche, ma probabilmente anche lo Cher e l'Auditel, che questa sera schizzerà. Anche se le amiche di Lucia e Michele Ferri, che è il fratello di Andrea, ucciso da due persone, non guarderemo, dicono il programma, perché è un affronto a chi ancora soffre. La fusione, il referendum come abbiamo visto il 13 o il 20 di marzo, Pesaro-Mombaroccio riparte l'iter, l'annuncio di Ricci in assemblea. Chiudiamo con la pagina di Fano, in apertura acqua, no ai litri gratis per evitare i distacchi. Bocciata la proposta dei grillini per tutelare chi non può pagare la bolletta. Il sindaco si dice d'accordo sull'analisi dei 5 stelle, ma non sul metodo da loro proposto. E poi tutti d'accordo sul rilancio del carnevale, voto unanime in consiglio sul piano di valorizzazione. La nostra segna stampa si conclude qui. Come sempre vi ricordo che c'è il nostro sito internet, occhioalanotizia.it, a vostra disposizione in qualsiasi momento per gli aggiornamenti in tempo reale, così come la nostra applicazione sui telefonini, sugli smartphone, applicazione gratuita che potete scaricare da Google Play oppure da Apple Store. E vi ricordo anche che le vostre segnalazioni di qualsiasi genere, dagli incidenti purtroppo fino a quello che non va nel vostro paese, nella vostra città, sono per la nostra relazione molto importanti. Quindi le aspettiamo con WhatsApp o semplicemente con un SMS. Io mi fermo qui, vi do appuntamento questa sera con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia, che come sempre va in onda alle 20.30. Buona giornata a tutti e arrivederci.